Allora, va benissimo, allora, io devi ripetere il tuo nome e cognome per... Io sono Pierluigi Caria. Pierluigi Caria, candidato per tutta la Gallura, insomma, per la provincia di Ate. Allora, questa campagna elettorale come sta andando? Va bene, io penso che sia un momento entusiasmante, stiamo andando in tutte le case, c'è pochissimo tempo, purtroppo non riusciremo a raggiungere tutti quanti gli elettori, però stiamo cercando di portare il messaggio che, insomma, questa Gallura e questo Presidente ha portato in questi cinque anni di governo, e cioè un risveglio dell'orgoglio dei sardi, i fatti e le cose, le proposte realizzate effettivamente nel nostro territorio e poi portando la nostra persona, la nostra esperienza, le nostre capacità nell'ambito della disponibilità che abbiamo dato, io ho lavorato tanti anni con i ragazzi nel mondo dello sport, nell'ambito della cultura e nell'ambito del sociale, chi mi conosce sa che sono fatto e che... Avete una concorrenza spietata a Olbia perché a centrodestra Olbia è una delle... Abbiamo una concorrenza spietata qui ad Olbia, faremo di tutto per fare la nostra parte, io sono convinto che noi abbiamo dei segnali forti di ripresa e ci candidiamo per battere questa concorrenza. C'è un interesse, un risveglio della politica da parte dei giovani? Io ho registrato moltissimo questo risveglio da parte dei giovani e posso anche dirvi che ho registrato moltissimo un risveglio da parte dei giovani partendo da quello che è il messaggio che il nostro candidato a presidente ha dato e che noi giovani stiamo portando nelle case da giovane.